Il principe Andrew alzerà un muro di silenzio prima di un'udienza chiave in tribunale sulle accuse di abuso sessuale che sono state fatte contro di lui, rivelano le fonti. Il duca di York sta lavorando con il suo team legale che sta combattendo contro l'accusa di «stupro di primo grado». La signora Virginia Juffer, formalmente conosciuta come Virginia Roberts, ha affermato di essere stata costretta a fare sesso con il duca di York in tre occasioni quando era minorenne. Ora ha intentato una causa civile per citare in giudizio il principe Andrea. La causa è stata intentata a New York il 9 agosto. Il principe Andrea ha scelto di non rilasciare una dichiarazione pubblica sulle accuse. Secondo quanto riferito, una fonte vicina al caso ha informato il Daily Mirror che il duca di York manterrebbe attualmente un muro del silenzio. Il suo silenzio verrà mantenuto mentre il suo team legale esaminerà ogni singolo dettaglio con la massima precisione per assicurarsi che non ci siano palle curve. Nell'ambito della causa, la signora Juffer chiede il risarcimento del danno emotivo e del disagio. In caso di successo, potrebbe costare al principe Andrea milioni di sterline. In conformità con la legge degli Stati Uniti, il duca di York deve ricevere personalmente i documenti legali prima che il processo legale possa andare avanti. Attualmente, i legali della signora Juffer hanno affermato di non essere stati in grado di avvicinarlo. I suoi avvocati negli Stati Uniti torneranno in tribunale il 13 settembre per richiedere più tempo per il caso. È stato stimato che l'intero processo per risolvere la questione potrebbe richiedere, fino a cinque anni. Il Daily Mirror ha riferito che gli avvocati del duca di York non saranno presenti all'udienza di settembre a New York. Il principe Andrea ha negato di aver fatto sesso con la signora Juffer e parlando al Newsnight della BBC ha spiegato che non ricordava di averla mai incontrata. Il duca di York è stato nominato persona di interesse dagli investigatori statunitensi coinvolti in un'indagine sul traffico sessuale che coinvolge Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Grazie a tutti.